Ciao da Attilio, ciao da Alchira Active Web, ciao Napoli, soprattutto parliamo di allenamenti seri, però se pensi che la palestra deve costare 100 euro all'anno, che non ha bisogno di nessuno, passa avanti, clicca, scivola, perché questo video non partita. Noi proponiamo i nostri allenamenti solo a persone che hanno la vera voglia e l'intenzione di allenarsi in maniera proficua, seria ed efficace, soprattutto. Con Tecnogim, che è il nostro partner commerciale, proponiamo un nuovo format di allenamenti, che per la verità non è tanto nuovo perché già sono diversi anni che lo usiamo, solamente che si è evoluto tecnologicamente parlando, in un'altra piattaforma ancora più fruibile per gli utenti della nostra palestra. Noi carichiamo attraverso un software gestionale che ci propone la Tecnogim una serie di allenamenti che possono essere di tipo funzionale, di tipo posturale, di tipo anche, diciamo, ad alta intensità, simil crossfit, o addirittura allenamenti di sala altrezze. Tutto questo viene praticamente precaricato su questo nostro dispositivo, ne abbiamo due in questa palestra, quindi immaginate che personalizzazione possiamo seguire al massimo, dopodiché gli allenamenti vengono visualizzati su un macchino di schermo, così da avere la possibilità di fare un allenamento individuale attraverso un tutor virtuale, al di là del fatto che siamo sempre noi presenti in sala qui a seguito di voi, o attraverso praticamente visionando gli esercizi qua. Tutto cadenzato, bene dal timing che ci viene proposto sul monitor, dove vengono visualizzate le ripetizioni, possiamo fare i vari tipi di circuito, EAMON, AMRA e via discorrendo. Quindi, allenamenti mirati, massima personalizzazione, una palestra unica, quindi, ve lo torno a ripetere, avete l'idea di farvi solamente i selfie nella palestra per far vedere che siete figli attraverso quella e fate finte di dare un calo? Guardate avanti, o già avete superato. Mi raccomando, venite a provare questo format esclusivo, tra l'altro noi facciamo anche degli small group, sia per quanto riguarda l'Active, che è un tipo di allenamento mirato sulla ginastica funzionale ad alta intensità e a bassa intensità, variando anche esercizi di tipo di velocità, potenza, coordinazione e destrezza, e non trascurando la mobilità. E il Network Active, cioè partendo dalla base del Pilates Network, facciamo degli esercizi anche con dei piccoli sovraccarichi, per chi vuole fare un Pilates, tra virgolette, avanzato, andando quindi ad avere anche un'azione tonificante più efficace. Attilio, dal Pira Active Lab, vi aspetto a suo cavo. In tanti, ciao, e diffondete le informazioni giuste, perché nella palestra valgono un sacco i falsi miti, si riconosciano un sacco di cazzate e venite a trovare questi nuovi formali. Ciao, alla prossima e vi aspettiamo in tanti. Ciao, alla prossima e vi aspettiamo in tanti.